E siamo qui con Meina Filpo dell'Associazione Ipirrupaini che anche quest'anno in prossimità del Natale ci delizierà con un'altra commedia invernacolo. Siamo a quota 9. Come si chiama quest'altra tua creatura? Maggiorevigliato un baraviso. Ci caleremo nella realtà di sei vecchietti che vivono in una casa di riposo. Succederanno, ci saranno degli accadimenti che li faranno vendicare verso uno di loro in una situazione del tutto improbabile, ma molto divertente speriamo come sempre. Maggiorevigliato in paradiso, che poi significa mi sono svegliata in paradiso, ma come le scegli tu queste commedie, il titolo che poi dai? In genere è una frase che poi viene sempre ripetuta nella commedia, in tutte le mie commedie, viene ripetuto spessissimo il titolo, proprio per dare il senso di quello che ho voluto dire, vogliamo dire, il messaggio che vogliamo portare. Senti, diamo l'appuntamento? Il 22 e il 23 di dicembre, ore 21, Teatro Sibaris, i biglietti in prevendita li potete trovare nella sede della nostra associazione, in via del Popolo 5.